Il tema della primavera coincide con il tema della giovinezza, mentre l'autunno e l'inverno indicano la vecchiaia, la primavera è il momento della crescita, quando tu l'avverti, non di una stabile definizione della vita di una persona come la maturità, cioè l'estate, la primavera è l'adolescenza e poi la prima giovinezza, quindi non c'è stato più puntuale per la storia dell'arte che quello della primavera, perché consente all'artista di rappresentare la bellezza ideale, consente di muoversi in una dimensione in cui c'è una perfezione non ancora raggiunta. Quindi l'idea di affrontare, adesso che entriamo nella primavera, l'anno che sta crescendo per maturare attraverso quello che la pittura esprime, è assolutamente pertinente a quella che è l'immagine più straordinaria del tema della primavera, che è quella di Botticelli, nel suo celebre dipinto, dove noi respiriamo una dimensione di freschezza. Ora, l'inizio della vita dell'uomo, l'infanzia, il momento in cui tu non parli, è il momento della curiosità, in cui tu cerchi di sentire e capire cosa è il mondo. Quando arrivi alla primavera sei nella dimensione di una grazia, di una freschezza, di una giovinezza, giovinezza e primavera coincidono. Ecco perché oggi noi davanti ad alcune opere d'arte, in questo caso abbiamo un dipinto del Marzia di Rovedetto con una figura femminile, una sorta di Venere, di Francesco Hayez, dobbiamo valutare la nostra predisposizione a una condizione dell'uomo in cui la bellezza, la bellezza femminile, si manifesta come grazia, come danza, come fioritura. Tutto quello che si avvia a perdere la freschezza, a perdere la propria pienezza, è il momento in cui la vita si avvia a esaurirsi e a finire in un tramonto, in un autunno, in una dimensione di malinconia. La primavera è strana la malinconia, la primavera è il momento della euforia, dell'esaltazione della natura, della luce, quindi giovinezza, luce, capacità di sentire che qualcosa dentro di te cresce per arrivare a una perfezione non raggiunta. La perfezione è una condizione in cui già si intende il declino, quindi di tutte le condizioni che la natura e l'uomo sentono, quella in cui la vita è più forte è la condizione della primavera. In questo senso la poesia, la poesia di Dante, la poesia di D'Annunzio, il primovere, tutto quello che coincide con una dimensione di idealità. È primavera perenne nella pittura di Botticelli e se noi valutiamo a quando esca la prima immagine della freschezza e della origine di una condizione così vitale, dobbiamo probabilmente guardare i rilievi delle sculture del Medioevo dove i mesi ci fanno intendere una dimensione per cui guardiamo i mesi di Antelami a Parva, guardiamo i mesi del maestro che lavora a Ferrara e vediamo come questi artisti per primi riescono a far sentire il germogliare della natura in una dimensione che si rappresenta in forme di grande armonia e di grande bellezza. Quindi armonia, bellezza, grazia. Allora pensando alla situazione nella quale siamo e quindi la sofferenza della vita delle persone che devono proteggersi dalla natura, nulla è più abominevole di doversi coprire il volto e difendersi dalla luce, dall'aria, vivere questa condizione di malattia, di infermità. Ecco noi viviamo una primavera defunta, quando essa si avvia a diventare invece la nuova stagione nella quale tutto dovrebbe fiorire o rifiorire. Quindi il fiore, quindi il germogliare delle piante, quindi la luce che si avvia alla sua pienezza, questo è la primavera e il sentimento che essa rappresenta e testimonia è nella pittura di Botticelli quello di una situazione di danza dentro la natura. Naturalmente questo poi si ripercuote in una quantità di immagini che vanno da Botticelli fino ai pre-Raffaelliti, fino a Cesare Laurenti, fino a Bistolfi, fino a tutti i maestri che hanno rappresentato questo momento di origine di fioritura della natura. Segantini ne scrive, parlando del paesaggio, dei suoi paesaggi, dicendo e di fatti cosa sarebbe la vita se amore non fosse? Che sarebbe la natura se fiore non dasse? L'arte ad essere fiore, vita, amore della natura. Se questo non dà è arida brughiera, è prato senza fiore. Ecco, quindi vedete che sinonimo del primavera è vita, è crescita, è la capacità di far sentire che sta muovendosi qualcosa da un torpore in cui l'inverno ha tenuto i nostri corpi. Infatti la primavera coincide anche con l'idea di potersi spogliare, di poter danzare in una natura, come vediamo delle immagini di questo dipinto dove Cesare Laurenti indica la grazia della danza. Allora credo che dovendo indicare attraverso le opere d'arte il sentimento della primavera, noi possiamo identificare con esso tutta la poesia. La poesia di per sé è primavera, la poesia di Saffo, la poesia di Leopardi, la poesia di Emily Dickinson. Sono idea di una vita che parte da una situazione di torpore e ne esce. Allora le immagini che io ho scelto per questo discorso sono la venere che scherza con due colombe. Vedete il corpo di questa venere che è senza gli abiti, la nudità, l'idea di crescere e nascere come accade nel dipinto di Botticelli, la nascita di venere che sorge dall'acqua dentro una conchiglia, le colombe che qui stanno affiancandosi a questa giovane donna. Ecco, il senso di questo corpo nella pienezza della carne è quello di una armonia che si è raggiunta attraverso la vita che la primavera dà ai corpi e alla natura. Parallelamente la primavera si rappresenta in un dipinto di Moggioli, senza la dimensione mitologica del corpo nudo, senza riferimento alla figura di Venere, senza nessuna dimensione leggendaria, ma con una madre che raccoglie a un glicine, a una pianta, a un fiore e la bambina che le sta attaccata come per essere protetta, essere garantita dalla madre, mentre intorno c'è questa luce assolutamente terza, di grande freschezza, di grande felicità e profumo della natura. Quindi, in diverso modo, anche Moggioli ci indica questa dimensione di libertà che la primavera stessa consente, che è di tornare dentro la natura, di vivere in una sintonia con la natura. Ancora Moggioli rappresenta la natura anche come coltivazione della terra. Ecco, primavera a Mazzorbo e in questa luminosità di un giorno di primavera, noi sentiamo che è la natura che sta germogliando, che sta crescendo. Poi c'è la primavera sulle Alpi, con la luce terza di una giornata in cui vediamo le nuvole e ancora la neve, ma il sole benedice quelle nevi, benedice quei prati, benedice quegli armenti che stanno pascolando in primavera. Le opere di Segantini, primavera sulle Alpi, di primavera di Pascoli e Pascoli Alprini di primavera, certamente ci restituisce una dimensione che non ha bisogno di nessuna idealizzazione. Vero è che la primavera coincide col momento degli ideali, la dimensione ideale, la dimensione di corpo nella sua assoluta purezza è quella che abbiamo visto nella primavera di Botticelli, nelle tre grazie che stanno danzando l'una vicino all'altra, attendendo che Paride dica quella che sceglie. E così, della nascita di Venere, il corpo esce dalla conchiglia come l'anima esce dall'acqua del battesimo purificata e senza peccato. Il tema della primavera ricorre nella pittura degli impressionisti, nella freschezza dell'en plein air di un pittore come Monet. E quindi anche in questo caso noi sentiamo che la parola primavera coincide con l'allontanarsi di ogni tumulto, di ogni tempesta, di ogni tormento, di ogni ansia. La primavera è una condizione di felicità. E questa felicità si rappresenta in un giardino fiorito, nell'opera di Klimt, in un giardino all'italiana, in cui Klimt dà più l'ordine alle piante e ai fiori. Da questo punto di vista c'è una connessione fra Botticelli e Klimt, lontani per tempo e per ispirazione, hanno però in comune questa idea di un germogliare della vita che si rappresenta soprattutto nel rinnovarsi della natura, dalla morte delle piante al loro rifiorire. Ancora abbiamo un canto di primavera, una festa di primavera, dei pittori pre-Raffaelliti, i quali per l'appunto riproducono in pieno Ottocento non il classicismo, la pienezza estiva dell'opera di Raffaello, ma invece quella primavera che viene prima di Raffaello che è proprio di Botticelli. Quindi Botticelli ispira l'intero mondo dei pre-Raffaelliti, in questo caso Walter Crane, perché loro scelgono il pittore che è come un attimo prima del compimento di una pienezza, di una perfezione. C'è una imperfezione che è un momento di grande equilibrio in cui tu hai raggiunto una condizione come di prematura forma, di forma acerba, di rinascimento umbratile, c'è qualcosa che appunto non è ancora compiutamente fiorito. E allora ecco che questo mondo pre-Raffaellita si riflette anche sull'opera di Klimt e sull'opera di suoi seguacci come Galileo Chini, che nel 1914 dipinge la primavera classica, tornando le forme di Botticelli, ma sostanzialmente muovendosi in un mosaico in cui i fiori si legano l'uno o l'altro in una composizione che ha quasi l'aspetto appunto di un'opera di Klimt o della tradizione bizantina da cui deriva. Ecco, quindi la parola primavera è nella pittura il momento in cui gli artisti cercano di cogliere il movimento rispetto alla stasi. L'estate è stasi, l'estate è immobilità, l'estate è una perfezione compiuta. La primavera è una perfezione non compiuta, è un tentativo di arrivare e di raggiungere una forma prima che questa sia raggiunta. Io credo che da questo punto di vista la più limpida espressione della primavera sia nella condizione poetica che ispira l'opera di Dante nella vita nuova, tanto gentile e tanto onesta pare, sembra essere la prefigurazione della danza delle grazie della primavera di Botticelli. Quindi i mondi lontani, in un tramando, indicano della natura la stessa condizione di capacità di far intendere la freschezza delle forme. In questo senso io credo che noi dobbiamo immaginare una condizione di felicità improvvisa, di attesa della felicità, di sospensione. La primavera è questo, è una condizione di una perfezione che non è ancora stata raggiunta ma sta per esserlo. Quindi è come se fosse davanti a noi. Anche l'immagine di Hayes che vedete dà il senso di qualcosa che deve essere raggiunto, una aria che arriva per far sentire e come contornare le forme. Credo che in questo senso la scelta di descrivere la primavera attraverso le opere d'arte sia il modo con cui noi sentiamo la stretta connessione tra la natura e l'arte. In fondo l'arte non è diversa dalla natura. La natura si dà, la natura è creazione divina. L'arte è continuazione di quella creazione. La natura non può dire tutto. Occorre che l'artista aggiunga qualcosa che è la sua capacità di intendere quella condizione della natura che noi troviamo per esempio nella poesia di D'Annunzio quando ci racconta il passeggiare del bosco con Ermione nella pioggia del Pineto. Anche in quel caso noi sentiamo che quelle parole sembrano accompagnare la condizione psicologica di sentire la primavera con i nostri sensi, con le nostre emozioni, con la nostra capacità di essere dentro la natura. Ecco, il rapporto fra natura e creazione divina e creazione dell'uomo trova nella primavera, in particolare nella primavera di Botticelli, la sua più alta rappresentazione. Sentiamo che quell'opera è il prosiego, la continuazione di quello che Dio ha fatto. Dio ha creato la natura, Botticelli ha creato la primavera che amplifica quella idea della natura. In questo senso l'opera di Botticelli è emblematica del tema che stiamo affrontando. È proprio la identità più propizia quando intendiamo primavera, intendiamo l'opera di Botticelli, quasi come se parlassimo della primavera che noi sentiamo camminando in una giornata luminosa durante i giorni della primavera. Quindi l'arte e la natura consentono, vivono insieme, diventano una sola cosa. La dimensione di idealità. Quando noi pensiamo alla primavera pensiamo a una dimensione ideale in cui la nostra Costituzione è al massimo della sua espressione. Non c'è lo sbocciare, la pienezza dell'estate, porta con sé già un inizio di decadenza. La primavera invece è l'aspirazione alla perfezione e quindi più ancora che la perfezione. è il modo per arrivarci, è il tentativo di arrivare a quella compiutezza. Il sentimento dei poeti, infatti, è naturalmente ispirato dalla primavera. È come se lo spirito di un poeta si rappresentasse nella capacità di far sentire questa condizione psicologica di maturazione, di lento crescere, di andare verso un raggiungimento di qualcosa che è ancora acerbo. La primavera coincide anche col tema della nudità e abbiamo qua una rappresentazione. Il nudo sta in una condizione in cui non deve coprirsi, proteggersi, come accade per l'inverno. Nelle rappresentazioni medievali, l'inverno è rappresentato da figure che hanno abiti, vesti, pelli per proteggersi dal freddo. La primavera invece è il nostro stare dentro la natura in una condizione assolutamente tranquilla, come se noi potessimo muoverci, così come siamo stati creati, nudi. Io credo che questa idea della primavera rappresenti la natura stessa della creazione. La creazione è primavera. Dio crea il mondo in primavera. Dio non crea durante l'inverno, durante l'autunno, perché deve far sentire che la vita è dentro le foglie, è dentro gli alberi, è dentro i fiori, è una fioritura. Ecco, fioritura e creazione coincidono, primavera e creazione coincidono, nascita di venere nella primavera coincidono. Sono diversi modi di essere della stessa condizione dell'uomo nella natura. Il sentimento della primavera è quello di una naturale predisposizione alla bellezza delle cose, all'armonia, alla idea che il mondo è un luogo di perfezioni che si devono conquistare e raggiungere. Quindi la perfezione è una conquista e la primavera è il percorso per arrivare a questa perfezione. Nelle immagini che abbiamo visto, delle opere dei pittori che rappresentano la natura e anche la figura umana dentro la natura, come si vede appunto in questi dipinti di Segantini, di Moggioli e nelle opere di Malfatti, di Bartolomeo Bezzi, noi sentiamo che la primavera è la condizione di felicità destinata a consumarsi nella maturità. Infatti Elliot dice in modo drammatico che aprile è il più crudele dei mesi. È sempre un paradosso perché aprile invece è il mese in cui tutto fiorisce, ma è il più crudele perché dura poco, perché rapidamente lascia spazio alla maturità, alla crescita verso qualcosa che alla fine si avvia a decadere. Quindi la crudeltà di aprile è nella sua avarizia, nella sua acerbità, nella sua breve durata. Aprile è il più crudele dei mesi. E la primavera ci dà il senso di un attimo che è pronto ad andarsene, a sfinire. E quindi è nella brevità che la primavera dà il senso del nostro limite, della nostra incapacità di vivere in quell'eterna condizione che sarebbe un paradiso. Nel paradiso è eternamente primavera. La stagione del paradiso è la primavera. Non c'è un paradiso d'autunno o un paradiso d'inverno. Quindi quel paradiso è un paradiso subito perduto. Tu ci sei dentro e un attimo dopo è finito. È come la felicità che dura un attimo. Ecco, questo lo ha detto come nessuno Botticelli nella sua primavera, perché sentiamo che è una condizione in cui noi vorremmo essere sempre, ma siamo costretti a essere per un tempo molto limitato. Quel tempo limitato ci dà il senso della nostra insufficienza, della nostra infelicità, del nostro non poter essere eternamente primavera. È come la giovinezza per le donne. La giovinezza di una donna è il momento in cui la bellezza trova il suo status naturale. Poi interviene il tempo. Arriva la vecchiaia. La vecchia di Giorgione dice col tempo, indicando un cartiglio in cui lei, che sarà stata sicuramente bellissima, sente sgualcirsi la sua carne e perdere quella freschezza che era stata per un tempo breve la sua condizione di felicità. Quindi bellezza, felicità e primavera coincidono. Tutto il resto è infelicità a cui siamo destinati. Il tempo della primavera è un tempo breve, un tempo limitato. Ecco, io credo che queste considerazioni servano a farci pensare come la pittura ha assunto la responsabilità di eternare quei momenti. Non c'è possibilità che finisca la primavera della pittura. È un po' quello che dice John Keats dell'Ode sull'Urla greca, dove noi vediamo per sempre fermi quelli che si inseguono, si innamorano, senza che il tempo possa farli passare quella condizione e andare verso la fine della loro felicità. Quindi l'Urla è il luogo dove tutto sta immobile. I dipinti sono una eterna primavera. La pittura rende resistente quello che la natura invece ha canucco, che vede consumarsi, che vede portarsi con un ciclo poi, che è quello della natura, a compimento. Poi ci sarà il momento dell'inverno e ritornerà la primavera. È un percorso ciclico, è un modo per poter immaginare continue rinascite. Ma la primavera è il tempo della rinascita, è il tempo della resurrezione. Anche dal punto di vista simbolico la resurrezione di Cristo avviene in primavera. Avviene nel momento in cui la natura e il destino di Cristo coincidono. Quindi il concetto di nascita, nascita di venere, primavera, è lo stesso concetto sotto diversi aspetti, compreso quello religioso della resurrezione. La primavera vuol dire che sta avvenendo il miracolo della nascita, di qualcosa che si avvia a diventare quello che poi finirà nella decadenza e della morte. Per cui nulla è più lontano dalla morte della primavera, nulla è più lontano dalla vecchia della primavera, nulla è più lontano dalla malattia della primavera. La primavera è la condizione di felicità, purtroppo temporanea. La pittura ha il compito di renderla eterna, di far diventare quella condizione momentanea, una condizione che esiste nel tempo, per cui noi sempre vedremo questa venere di Hayez, una ragazza dell'Ottocento, eternamente giovane. Quello che è lei è il destino del ritratto di Dorian Gray, che il ritratto invecchia e Dorian Gray rimane giovane. La pittura è esattamente questo, tiene giovane quello che il tempo fa diventare vecchio e morto, e ci sottrae. La vita è una continua sottrazione, la primavera è una continua nascita. Noi nella primavera riconquistiamo quello che abbiamo perduto nella stagione precedente. E questo avviene finché resista la vita. E poi con la fine della vita, per uno solo c'è stata la risurrezione. Per noi c'è la consolazione di immaginare che dall'altra parte ci aspetti qualcosa perché la vita non finisca. Grazie per la visione!